È diventata virale questa bevanda sull'altro social, ovvero il tè alla Sprite Io cosa faccio? Non ci provo, raga Bisogna prendere una Sprite Ho ritrovato questa bustina qui Che tanto bene è tè verde al limone Perché potete utilizzare o il tè al limone, o il tè normale e poi aggiungere il limone O il tè verde e poi il limone Adesso la messa a testa giù in frigo fino a che non si colora Nel frattempo prendiamo un limone, lo tagliamo a fette Prendiamo le nostre fettine, le mettiamo dentro Dobbiamo fare questa cosa qua, cioè schiacciare Aggiungiamo del ghiaccio, questo è il risultato di due ore di frigo Ciratina Madonna, raga, ma c'hanno ragione, è buonissimo Ma stupendo, questo aperitivo è un alcolico, amici, pazzesco Ma ma che buono Approved? Grazie mille Grazie mille Grazie mille